Fuga in avanti dalla Digital Divide. 187 fra comuni ed enti della Regione Marche hanno già aderito a Digipalm, ovvero al nuovo progetto presentato da Presidente e Vicepresidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e Mirko Carloni, finalizzato alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali delle Marche. Con Digipalm, meno certificazioni cartacee e procedure più agili diffondendo l'utilizzo di sistemi nazionali come l'app Io, Speed e Pagopà, il tutto con la Regione Marche che funge da intermediario tecnologico. È stata una delle prime cose che ho fatto insieme all'autoressa Carota del Servizio Informatica. Abbiamo incontrato l'ex ministro Pisano che ci ha ascoltato su un progetto sperimentale di nuovi servizi digitali per la pubblica amministrazione e questo come effetto per i cittadini provocherà una semplificazione e una digitalizzazione di tante di quelle certificazioni che prima bisognava produrre in modo cartaceo, invece con questo nuovo sistema che presentiamo oggi la gran parte dei nostri comuni che hanno voluto aderire su base volontaria al progetto, circa 187, potranno attivare per i loro cittadini dei servizi altamente innovativi. Questo è un passo avanti per la tecnologia applicata ai servizi pubblici.